Scusate, rimango in piedi per questioni visive anche perché volevo segnalarvi qualche punto della mia trattazione che torna un po' indietro rispetto a quello detto dalla dottoressa Montalbetti perché lei ha fatto un intervento legato all'esito della laurea in termini di sbocchi occupazionali e invece il mio intervento cerca di fare un quadro del profilo dei laureati quindi partendo un po' dalle caratteristiche al momento dell'iscrizione, dell'immatricolazione meglio ai corsi di studio per vedere poi com'è andata dal punto di vista dell'esito. Certamente è andata bene nel senso che parlerò di laureati, quindi di studenti universitari che hanno concluso gli studi con successo. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente che il quadro che farò è legato a un insieme di studenti che bene o male il proprio percorso di studi l'ha portato a termine. Quest'anno sono stato esonerato dalla presentazione del rapporto triennale, l'incarico era quello di parlare di profilo dei laureati triennali negli anni e quindi mi sono preso anche un po' la libertà di confrontare qualche dato stella, stella Lombardia in particolare, con il dato nazionale. Allora la prima slide non riporta dati ma riporta una informazione storica, cioè forse è il caso di ricordarselo, ma molti di noi se lo ricordano, da dove veniamo. Questa era la situazione al 31 luglio 2001, un rapporto del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario che ricordava quali erano i costi del sistema universitario, le difficoltà di concludere con successo gli studi, i lunghi tempi necessari per chi riusciva a concluderli per acquisire questo titolo e anche però bisogna ricordare che negli anni 90 il numero di laureati e al tempo diplomati con diploma universitario era aumentato notevolmente dal rapporto CNVSU da 87.000 a 152.000. Quindi 2001, la riforma, la cosiddetta 3 più 2, cosa è successo? Cosa possiamo dire rispetto a quello che è successo dopo questa situazione? Allora la domanda che mi sono posto e che faccio anche a voi, io cercherò di dare qualche informazione quantitativa, non di qualità, che questo non spetta a me, quanti sono stati laureati di primo livello nell'ultimo decennio. Come dicevo prima, oltre ai dati stella ho fatto affidamento anche alle due fonti istituzionali dei dati riguardanti il sistema universitario, uno l'ufficio di statistica con le indagini sull'istituzione universitaria e l'altro è l'anagrafe degli studenti. Fonti che non sempre si sovrappongono in modo perfetto, ma questo è un problema statistico, quindi lo lasciamo perdere nel limite del possibile. Allora dove siamo arrivati? Dal 2001 al 2010 stiamo parlando dei laureati di primo livello in Italia, quindi l'ho presa un po' alla lontana se volete, questa è la situazione. In questo decennio i laureati di primo livello sono stati 1.152.000. E' chiaro che si parte da una situazione in cui i laureati erano praticamente zero il primo anno della riforma, si arriva a un picco nel 2007 di 174.000 e poi si nota un leggero calo da 174.000 a 165.000. Però è chiaro che dal 2007 il sistema entra a regime. Gli anni precedenti, come vedremo anche fra un attimo, raccontano storie molto eterogenee legate anche al numero molto ridotto di laureati. Vediamo i cosiddetti laureati, potremmo chiamare in regola regolari, quelli che escono dal sistema universitario nei tempi, fra virgolette, giusti. Meno di 23 anni è una data magari anche un po' approssimata, nel senso che poi sappiamo c'è chiaramente la sessione dell'anno successivo che recube la sessione straordinaria, però prendiamo come riferimento anche nelle slide successive, farò lo stesso, il numero di laureati triennali che riescono a conseguire il titolo con meno di 23 anni. Anche qui chiaramente ci troviamo di fronte a un incremento vorticoso fino al 2005 e poi a una leggera diminuzione, 242.000 laureati con meno di 23 anni. Anche qui si nota una tendenza alla diminuzione, dal picco di 35.000 a 31.000. Gli immatricolati, perché nel momento in cui parliamo di laureati, bisogna anche considerare chi è entrato nello stesso periodo nel sistema universitario. Quindi parliamo, attenzione, di immatricolati, non di iscritti, nel senso che con immatricolati si intende studenti che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario, quindi non hanno percorsi, pregressi di studio all'interno delle università italiane. Bene, qui vedete che l'andamento è leggermente crescente nei primi anni, poi decresce, complessivamente questi immatricolati sono 2.760.000. Si nota qui chiaramente il picco di 313.000 e poi questa riduzione, ne avevo parlato anche un paio di anni fa, per cui sembra esserci un crollo degli immatricolati. In realtà non è così, perché nel 2006 si aggiunge l'effetto del gruppo delle discipline giuridiche che decide di fatto di trasferire tutta l'offerta formativa sulle lauree a ciclo unico e quindi quelli che erano i corsi di studio triennali vengono pian piano chiusi e questo chiaramente determina questa riduzione. Composizioni percentali. Ecco, qui incomincio con i quadri. Io adesso vi farò vedere alcuni quadri. Ci ho messo un po' di colori, però sono quadri di statistici, quindi non vi aspettate chissà quale qualità dal punto di vista della pennellata. Quello che viene fuori dai dati, in qualche modo, trasformato in colori. Ed è stato ricordato prima che dal punto di vista dell'analisi, in Italia in questi dieci anni, alcuni atenei, in misura maggiore o minore, hanno deciso di condividere questa esperienza. In particolare, chiaramente Alma Laurea, raggruppa a livello nazionale molti atenei. Se lo guardiamo nel tempo, vedete che si passa da un 40% dei primi anni fino a raggiungere quasi il 70% degli atenei italiani che aderiscono a un'iniziativa Alma Laurea, simile a quella di Stella, chiaramente, che consiste nell'analisi dei dati legati ai percorsi di carriera agli sbocchi occupazionali. Poi esiste, per quanto riguarda soprattutto la Lombardia, Stella, Stella Lombardia, e vedete che anche qui, questa fascia dice che, insomma, la Stella Lombardia, per quanto riguarda il numero di atenei lombardi appunto che vi aderiscono, ha un suo ruolo, così come lo ha nella fascia un po' più scura, che invece riporta gli atenei che sono di Stella, ma non lombardi, quindi in particolare Pisa e Palermo. C'è poi una quota, questa in verde, di atenei lombardi che però non aderiscono a Stella, e poi c'è la quota finale degli atenei, che però vedete nel tempo si riduce, che non aderiscono a questo tipo di iniziative, ma che comunque, attenzione, svolgono la propria analisi sui percorsi di carriera dei laureati e sugli sbocchi occupazionali. Ecco, questo è un po' il quadro d'insieme di chi ha operato in questi anni per analizzare i dati. E allora vi faccio vedere la stessa analisi per i laureati di Stella, di Lombardia-Stella. Ecco, mi perdoneranno qui i colleghi di Palermo e di Pisa, ma insomma non me la sono sentita di mischiare questi dati, mi sembrava che sia il luogo e che sia i presenti, in qualche modo fossero più interessati al dato riguardante gli atenei Stella, che quest'anno hanno aderito a questa iniziativa. Però prometto che nel caso fosse interessata, parlo con la collega di Palermo, possiamo produrre le stesse analisi senza problemi. Allora, questo è l'andamento dei laureati di primo livello. Se vi ricordate l'immagine precedente a livello nazionale, questa ci assomiglia parecchio. Gli atenei lombardi che quest'anno aderiscono a Stella hanno contribuito nella nostra banca dati con 171.000 carriere che sono state integrate nella banca dati e che sono i laureati di primo livello sui quali farò poi le considerazioni. Il picco qui c'è stato nel 2006, 25.000 laureati e poi vedete che sostanzialmente il sistema è stabile dal 2006 al 2010, c'è una riduzione di un migliaio di laureati, ma non più di tanto. Guardiamo ancora i laureati, fra virgolette, regolari, cioè quelli che arrivano a conseguire il titolo triennale con meno di 23 anni. Anche qui, dopo un aumento impetuoso fino al 2005, c'è una sostanziale stabilità. Complessivamente, nel mercato del lavoro, oppure, come abbiamo sentito prima, nella prosecuzione degli studi sulle lauree specialistiche, sono entrati 70.000 laureati di primo livello, con i due picchi da 11.000 a 10.600. L'ultimo anno sembrerebbe dare una leggera inversione di tendenza alla crescita, ma direi che, se lo guardiamo nel continuo, c'è una sostanziale stabilità. Gli immatricolati, sempre in Lombardia, qui c'è scritto Italia, ma in realtà è Lombardia, 327.000 immatricolati, stella Lombardia. Anche qui vediamo l'effetto del gruppo giuridico che ricordavo prima, però vi faccio notare che dopo il 2006 il sistema entra in sostanziale stabilità, cioè il numero di immatricolazioni, quindi al primo anno delle lauree triennali, sugli Atenei Stella Lombardia, che stiamo considerando, rimane stabile. C'è un leggero calo rispetto al 2005, però vedete che le cose rimangono stabili. Quindi adesso vi farò vedere qualche pennellata sul profilo dei laureati, sulle loro caratteristiche di base. La prima è la distinzione maschi e femmine. Distinzione maschi e femmine, questo è il primo quadro sulla composizione. Ecco, c'è una piccola curiosità nel 2003, nel senso che c'è una diminuzione delle femmine, questa parte in rosa, un aumento dei maschi, ma poi vedete che c'è una leggera prevalenza delle femmine, intorno al 58%, e un po' meno i maschi. Riguardo alla provenienza, quindi il tipo di diploma, qui chiaramente non vi faccio vedere tutta la distinzione per tutti i diplomi possibili, abbiamo considerato la distinzione fra diploma liceale e non, anche perché molto spesso si dice che i diplomati del liceo sono più bravi, riescono a conseguire dei risultati migliori, a laurearsi prima, e quindi vediamo se questa composizione è cambiata. è cambiata nel tempo, vedete nel 2003-2004 c'è un leggero aumento dei laureati che si erano iscritti con un diploma liceale, però anche qui, se guardiamo l'ultimo periodo, la stabilità la fa da padrone. Circa sei laureati su dieci hanno un diploma liceale. Il voto di diploma è un altro indicatore che chi si occupa di queste cose considera per valutare il successo negli studi universitari. Anche qui il quadro, come vedete, è abbastanza piatto, nel senso che circa il 70% dei laureati ha un voto di diploma inferiore a 90 e a parte il primo anno, negli anni successivi la quota di laureati con voto di diploma superiore a 90 rimane sostanzialmente stabile. Le aree, qui avrei potuto portarvi un grafico diviso per gruppi o addirittura a livello di corso di studio. Credo che per darvi un quadro generale sia sufficiente distinguere fra le quattro aree di formazione universitaria. L'area scientifica, l'area sociale, l'umanistica e la sanitaria. All'interno di queste aree chiaramente la fanno da padrona i corsi di laurea di ingegneria per quella scientifica, i corsi di laurea di economia o di scienze politiche per la sociale, il corso di lettere e lingue nell'area umanistica e il corso di medicina nell'area sanitaria. Quindi, insomma, un'idea, seppur diciamo a livello aggregato, ve la può dare questo quadro rispetto alle quattro macro aree di riferimento. Stiamo parlando sempre di laureati di primo livello Stella Lombardia. Questo è il quadro che esce dall'analisi decennale. Questi sono i laureati dell'area scientifica. Vi faccio notare il piccolo, il piccolo, no, il picco di anomalia che si verifica nel 2003. E poi, però, se ci guardiamo, guardiamo gli ultimi anni, notiamo che in pratica poco meno del 40% di questi laureati lombardi proviene dall'area scientifica, un 35%, poco meno del 35% dall'area sociale, poi rimane laurea umanistica, e nell'area sanitaria si laurea circa il 12%. Vi faccio notare il 2002 come questa quota era molto più ampia. Allora, confrontiamo questa situazione con quella italiana. Se noi sovrapponiamo il grafico lombardo con quello italiano, ci accorgiamo delle differenze. C'è una maggior quota di laureati nell'area scientifica in Lombardia rispetto a quella nazionale, però poi, chiaramente, le cose si compensano per quanto riguarda le altre zone. Non so se si vede la dinamica, ma questa è la situazione. Chiaramente, come ogni quadro, bisognerebbe mettersi lì e guardarlo con maggiore attenzione, però, insomma, per il momento ci fermiamo qui. Laureati. Allora, i laureati in regola, quelli con meno di 23 anni, quelli nella fascia intermedia, e quelli con più di 26 anni. Anche qui, i primi anni ci raccontano di una storia piuttosto mobile, con un aumento piuttosto forte nel 2003-2004 dei laureati con meno di 23 anni, e poi, però, se guardiamo l'ultimo periodo, gli ultimi 4-5 anni, questa composizione rimane sostanzialmente stabile. 45% circa dei laureati con meno di 23 anni, poi si arriva al 90% considerando quelli fra 23-26, e qui c'è la quota dei cosiddetti laureati anziani. il voto di laurea, nell'uscita, si valuta il voto di laurea, anche qui ho considerato due classi, fino a 105, quindi inferiore a 106, e poi, diciamo, quelli che conseguono una votazione molto elevata da 106 a 110. Anche qui, il quadro, soprattutto nell'ultimo periodo, dà un evidente messaggio di stabilità. Se confrontiamo questo quadro con quello italiano, e quindi confrontiamo l'area russa e quella verde a livello italiano, ci accorgiamo che i laureati lombardi, se diciamo c'è una quota di 7-8%, forse meno, hanno tendenzialmente delle votazioni leggermente inferiori. Qui bisognerebbe ragionare su cosa significa voto di laurea, anche perché a livello di singola area ci sono delle evidenti differenze. Allora, l'ultima parte del mio intervento è legata all'analisi per corti. Analisi per corti significa, in sostanza, che per analizzare il dato legato ai laureati bisogna collegarlo alla corte di appartenenza, cioè a quel gruppo di immatricolati dai quali hanno avuto origine. l'analisi che è stata fatta è stata quella legata a una particolare fetta di immatricolati, quelli che si sono iscritti all'università all'età giusta. Perché è chiaro che se noi consideriamo tutti gli immatricolati, tutte le nostre analisi dipendono anche dall'età della persona che si iscrive all'università. quindi per eliminare questi effetti legati a percorsi un po' strani, per cui magari qualcuno si iscrive all'università per acquisire un titolo non a 19 anni come di soli ma in anni successivi questo è accaduto per esempio in ambito delle discipline mediche per i percorsi infermieristici, sanitari e allora per evitare di avere questa complicazione nell'analisi dei dati mi sono concentrato sugli immatricolati sempre di primo livello chiaramente che avevano meno di 20 anni al momento dell'immatricolazione stiamo parlando qui abbiamo i dati dell'anagrafi studenti del ministero di 221.000 studenti qui vediamo le quattro aree di prima scientifica sociale umanistica e sanitaria la percentuale di immatricolati con meno di 20 anni sul totale degli immatricolati di quell'anno qui vedete che per quanto riguarda l'area scientifica quindi stiamo parlando sostanzialmente di percorsi di ingegneria primi anni vedono un aumento poi c'è una leggera diminuzione ma siamo sempre nell'ordine dell'80% cioè a dire 8 immatricolati su 10 in ambito dell'area scientifica a meno di 20 anni quindi si iscrive all'università all'età giusta le cose non sono così marcate per le altre aree per esempio se consideriamo l'area sociale vedete che anche qui l'andamento è simile però con uno scarto di circa 10 punti quindi vuol dire che c'è un 10% in più di immatricolarti in quest'area che ha un'età superiore ai 19 anni quindi la domanda è anche che tipo di percorso richiedono lo stanno facendo lo stanno seguendo questo è il risultato per l'area umanistica e questo è il risultato per l'area sanitaria e qui ricordavo prima le professioni paramediche si vede chiaramente che soprattutto nei primi anni la quota la quota di immatricolati con meno di 20 anni è piuttosto bassa qui c'è una curiosità lombarda chiaramente questa diminuzione implica che c'è una grossa fetta di laureati con più di immatricolati scusate con più di 20 anni e in quell'anno lì ci sono 400 immatricolati che hanno un'età superiore ai 20 anni quindi è un'anomalia legata probabilmente a una particolare offerta formativa che poi non si ritrova più negli anni successivi anzi quello che si vede nel 2010 nell'anno accademico 2010-2011 è una tendenza al realineamento questa è la situazione italiana 1.533.000 immatricolati con meno di 20 anni e queste sono le composizioni per area scientifico disciplinare per area disciplinare vedete che sostanzialmente questi andamenti sono simili al grafico che vi ho fatto vedere prima allora che fine hanno fatto questi giovani immatricolati e in particolare quanti di questi si sono laureati in regola quindi il quadro successivo considera la percentuale di quelli che avevano meno di 20 anni all'immatricolazione e sono riusciti a conseguire il titolo triennale con meno di 23 quindi ci hanno messo la cosiddetta durata legale del corso per conseguire il titolo stiamo parlando sempre di Stella Lombardia vediamo le percentuali per quanto riguarda l'area scientifica degli immatricolati regolari con età regolare la percentuale di quelli che riescono a conseguire il titolo entro i 23 anni è inferiore al 40% sta fra il 35-40% con una tendenza alla stabilità negli ultimi anni queste sono le corti quindi questa è la corta immatricolati dell'anno accademico 2003-2004 posso arrivare fino al 2007-2008 perché devo avere i tre anni necessari per vedere qual è l'uscita l'analisi per corti funziona così vediamo invece cosa succede alle altre aree questa è l'area sociale qui la percentuale nei primi tre anni accademici di immatricolati che riesce a conseguire il titolo entro il triennio è ancora più bassa della precedente però vedete che negli ultimi due anni accademici questa cosa si compensa la terza area è quella umanistica anche qui vedete questa situazione che parla di percentuali inizialmente basse però immaginate che se io ho fatto un quadro del genere e ho lasciato tutto questo spazio bianco c'è qualcosa che si porta a pensare che la percentuale di immatricolati con meno di 20 anni che riesce a conseguire il titolo in regola quindi entro i 23 anni nell'area sanitaria è significativamente più alta è più alta sì soprattutto per i primi anni ma poi tende a decrescere ma il salto è ancora dell'ordine del 17-18% quindi ci sono dei tempi diversi di acquisizione del titolo triennale e chiaramente se io poi andassi a scavare all'interno di queste aree macro aree a livello di singolo gruppo se non a livello di singolo corso di studio troverei ancora diverse eterogeneità vediamo quelli che hanno conseguito il titolo entro i 23 anni però sono stati bravi se con bravi intendiamo che hanno conseguito una votazione elevata superiore a 105 allora qual è questa percentuale nell'area scientifica è piuttosto bassa nell'area sociale praticamente indistinguibile dalla precedente nell'area umanistica la percentuale di laureati in regola regolari anche dal punto di vista dell'età supera il 20% con una tendenza da aumentare fino al 25% e nell'area sanitaria anche qui la percentuale di quelli che escono con dei bei voti in questa corte supera il 30% quindi anche qui forti differenze dal punto di vista della valutazione finale che poi questo ripeta ripeto Collimi con un'effettiva conoscenza competenza chiaramente stiamo parlando di percorsi formativi molto diversi fra loro il terzo ultimo quadro legato a questo tipo di informazione riguarda invece i laureati sempre con meno di 23 anni e con più di 26 anni con il voto elevato cioè la domanda che mi sono fatto è ma il fatto di laurearsi in tempo entro i 23 anni poi alla fine ha un esito anche sul risultato cioè sul voto finale i laureati che si laureano prima hanno un voto di laurea mediamente più alto o più basso di quelli che si laureano con molto ritardo perché più di 26 anni chiaramente è un'età piuttosto avanzata rispetto a quelli che sono le indicazioni del progetto formativo di una laurea di primo livello beh la risposta è racchiusa in questo grafico questa linea questa spezzata riporta i laureati con meno di 23 anni che hanno un voto fra 106 e 110 lasciamo perdere il 2002 che vedete c'è una un picco piuttosto forte ma poi una sostanziale stabilità quindi vuol dire che il 40% dei laureati con meno di 23 anni ha un voto elevato questa percentuale laureati con più di 26 anni che hanno un voto elevato è più bassa a parte anche qui questa anomalia ma è spiegabile con certa offerta formativa particolare però vedete che c'è una tendenza anche qui a una scollatura quindi qui il grafico sembra dire che chi si laurea nei tempi previsti poi alla fine ha un risultato mediamente più elevato di chi invece si laurea ad un'età avanzata questa è l'informazione io ho finito spero